Presentato nella Sala Nassiria del Consiglio regionale della Campania, il programma annuale del Forum Giovani. Particolare riferimento è stato fatto all'impegno del Forum per le Universiadi, grazie a un protocollo d'intesa siglato qualche giorno fa. L'obiettivo è quello di promuovere la manifestazione internazionale sui territori delle cinque province campane, grazie ai 250 forum giovanili presenti in altri tanti comuni, incentivare la partecipazione giovanile alla campagna di reclutamento dei volontari e realizzare eventi e condividere i contenuti della manifestazione sui canali social. Il presidente del Forum Giuseppe Caruso. Nel 2019 toccheremo come attività del Forum regionale dei giovani le tematiche più importanti che coinvolgeranno il meridione d'Italia, dalla partecipazione con una rappresentanza giovanile a Matera 2019, Capitale Europea della Cultura, alla promozione del Sannio Falanghina, Capitale Europea del Vino, al sostegno, alla conoscenza e alla promozione dell'Università di 2019. Quindi questi tre grandi eventi, che sono importanti per il territorio ma sono importanti soprattutto per i giovani, cercheremo di dare una piena conoscenza e consapevolezza e far assumere un protagonismo alle giovani in generazione. All'incontro hanno preso parte anche i membri dell'ufficio di presidenza, Flora Beneducenzo, Maraio, e la presidente del Consiglio, Rosetta D'Amelio. Ho voluto che nella regione più giovane d'Italia, dalla quale purtroppo partano tantissimi giovani qualificati, preparati, noi dovevamo con forza valorizzarli. E proprio questo anno ho chiesto alle universiadi, che sono un evento straordinario, che facciamo in regione Campania, che ancora non stiamo valorizzando fino in mondo, arriveranno giovani da tutto il mondo. Napoli e la regione Campania diventano una vetrina del mondo rispetto ai giovani e allo sport. Grazie a tutti.